Teresa Vergalli è una staffetta partigiana. Una staffetta è una che porta comunicazioni che mette realtà diverse in contatto. Queste pagine nascono da un'antica abitudine. Scrivere è un modo più attento di dialogare con gli altri e con se stessi e di riprendere il filo dei pensieri e dei ricordi. Vorrei che tutti prendessero questi miei ricordi come una testimonianza d'affetto e un'enorme grazie per tutto quello che senza parere mi hanno insegnato.